C'è in si dei cittadini ucraini profughi di guerra sul territorio della provincia di Salerno e lo scopo della piattaforma inclusa inclusione ucraini-salerno adottata dalla prefettura di Salerno per il monitoraggio delle presenze di ucraini in fuga dalla guerra nel territorio della provincia salernitana. Il progetto realizzato in collaborazione con la Questura e l'Anci prevede un sistema per la presentazione delle dichiarazioni di presenza e di ospitalità a cui sono tenuti i cittadini ucraini e coloro che li ospitano. Le dichiarazioni potranno essere effettuate presso l'ufficio immigrazione della Questura, i commissariati della Polizia di Stato di Battipaglia, Cava dei Tirreni, Nocere Inferiore e Sarno e i comandi delle polizie municipali nei comuni dove i sindaci sono autorità locali di pubblica sicurezza. Nella piattaforma inclusa confluiranno tutte le informazioni in possesso degli uffici preposti alla ricezione delle dichiarazioni di presenza. L'obiettivo è quello di avere una fotografia in tempo reale della situazione e di disporre di un quadro sempre aggiornato della presenza dei profughi ucraini sul territorio della provincia di Salerno che prevalentemente giungono in maniera spontanea.